Finestre Gli occhi con cui vedi ora sono occhi stupendi. Sono quelli della tua creatività, della tua immaginazione. Le persone a volte si guardano attraverso il proprio valore. Vedere il bello delle persone, applicare il proprio valore alle persone è una dote, anche se spesso può condurre alla delusione. Ma non è detto che devi perdere una tua dote. Sarebbe la scelta peggiore. Grazie